Sei? Pronto? La mattina così, brava. A posto. Bravissima, 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 abbiamo finito Maria, fantastico, finito, brava Maria. Grazie. Cosa fa questo virus? È infettivo. È molto infettivo. Dobbiamo proteggerci da questi virus. E come ci proteggiamo? Tu cosa fai oggi? Oggi mi faranno il vaccino. E a cosa serve il vaccino, Maria? Il vaccino per proteggermi, almeno. Per proteggere te? È vero? E con gli altri. Anche gli altri. E mi sono vicino. Esatto. Grazie. 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 Grazie.